Annuncio l'argomento di oggi. Se prendiamo iniziative troppo grandi, difficilmente riusciamo a portarle a termine. Se prendiamo iniziative troppo piccole, difficilmente otteniamo risultati grandi. Allora, che paroloni! Allora, no, perché vi dico questo? Perché siccome nella diretta scorsa abbiamo parlato di sito internet, e ripeto, ma qualunque canale di comunicazione, come un ecosistema che deve interagire con parti, che deve mantenere in vita i propri esseri e organismi viventi all'interno, è ovvio che se noi pensiamo di costruire una navicella spaziale che vada su Marte e vada a portare gli umani su Marte, facciamo un po' fatica, no? Non ce la fa la NASA, facciamo un po' fatica anche noi. Viceversa, se io devo solo costruire un martello, al giorno d'oggi il martello oltre che già presente, e quindi la mia invenzione non è un'invenzione né inutile, ma quanto utile mi porterà. Quindi, secondo me, bisogna un attimino trovare la fascia di mezzo dove posizionarsi, no? Quindi dire, io voglio creare un progetto di questa dimensione perché è il massimo che riesco a fare col minimo sforzo ed è anche la formula che mi dà un po' più di risultati, no? Un po' più di utile. Siccome abbiamo parlato di posizionamento del sito, abbiamo parlato eventualmente anche di canali social, in tutte queste piattaforme, in tutti i vostri canali di comunicazione, bisogna, secondo me, trovare questa fascia in cui posizionarsi. Cioè la grandezza del progetto deve essere misurata a tutto quello che avete in azienda, dalle risorse economiche, alle risorse umane, perché le risorse umane fanno gran parte del lavoro ancora, eccetera. Quindi cosa vuol dire questo? Che se io voglio esplodere sui social, perché qualcuno lo chiede ancora dal punto di vista numerico, che è follia, lo sappiamo, però qualcuno lo chiede ancora, e dice io voglio esplodere, voglio più follower. Allora, se io voglio più follower, devo essere pronto a investire del tempo e del denaro per creare contenuti, martellare, commentare, gestire i social, eccetera. La stessa cosa, se io voglio un sito con tantissime visite, visto che l'altro giorno parlavamo di SEO, di posizionamento del sito, devo sicuramente investire del tempo nella creazione di contenuti, nella stimolazione di tutti gli organismi, nella creazione di newsletter, piuttosto che contatti dall'esterno e collaborazioni, le cose che abbiamo detto la diretta scorsa. Quindi cosa significa? Che devo capire fino a che livello spingermi e quanto tempo, quante risorse ho a disposizione e devo investire. La gente purtroppo sottovaluta l'impegno per raggiungere un certo obiettivo. Cioè, siccome c'è stata l'era dei bot su Instagram e tutti crescevano facilmente, tra l'altro molti crescevano anche organicamente perché era la novità, ancora oggi si pensa che si possa crescere o con i bot o velocemente perché si pensa di creare dei contenuti meravigliosi, o perché si pensa di avere abbastanza tempo, o perché si pensa che le pubblicità costino ancora poco come due, tre, quattro, cinque anni fa. Purtroppo c'è stato un avvicendamento di varie cose, per esempio i nuovi social come TikTok, che ha veramente portato via un grosso pubblico da Facebook e da Instagram, soprattutto dei più giovani, e poi altre cose, no? Cioè Google cambia il suo algoritmo, YouTube fa la guerra con Twitch, e avanti di questo passo. Quindi siccome cambiano anche i player in gioco, non possiamo pensare di comportarci come cinque anni fa e non possiamo neanche pensare di ottenere i risultati di cinque anni fa con lo stesso sforzo di cinque anni fa. È impossibile. Quindi dare la giusta dimensione al progetto e valutare bene le risorse che abbiamo a disposizione spesso è la chiave per non fallire. Perché c'è gente, e la maggior parte degli errori lo vedo nei blog, lo vedo in questi progetti editoriali, redazionali, dove serve continuità e costanza, spesso sopravvalutano le loro capacità produttive. Cosa significa? Che pensano di scrivere un articolo al giorno, poi ne scrivono una settimana, o poi dicono va bene, una settimana va bene, e poi passano a 1 a 15 giorni. Se va bene, 1 a 15 giorni. Quindi cosa succede? C'è anche gente che non pubblica sul blog da sei mesi, otto mesi, un anno, due anni, e poi si lamenta che non si posiziona, ma è normale, e dice non ho tempo. Ecco, l'errore è stato valutare che avessi tempo per scrivere sul blog, che è una risorsa molto impegnativa, soprattutto per scrivere decentemente, per informarsi, e poi, come sempre, conta che missione ha l'altro blog, però in ogni caso viene sottovalutato l'impegno che c'è e il costo per un certo progetto e una certa attività. Quindi, oggi parliamo un po' di questo, perché nella diretta scorsa ho detto una frase che mi è rimasta molto impressa, e ho detto, poi la riprendo e ne parlo alla diretta prossima, cioè oggi. Ho detto che bisogna entrare dalla porta di servizio, che sembra quasi dispregiativo. In realtà è il trucco per partire. Nel senso, parlavo di SEO e di posizionamento, quindi di posizionare il sito internet nei motori di ricerca. Cosa dicevo? Che se io voglio posizionarmi davanti a Feltinelli, Mondatori, IBS, Amazon, eccetera, farò una fatica incredibile a posizionare il mio sito. Vi ricordate? Invece ho detto, magari trovo una strada secondaria per far leggere parte del mio libro, poi a quel punto il lettore interessato magari viene a comprare il mio libro. Quindi qua era, si trattava di sistemare bene gli obiettivi. Cioè l'obiettivo non è posizionarmi, primo, davanti a Amazon, IBS e Veltinelli, ma è vendere il mio libro. Scelgo come vendere il mio libro. Se per venderlo devo usare una strada secondaria, entrare nella porta di servizio. Per esempio, affidarmi a un editore che ha già una pagina di 200.000 iscritti. Capite bene che quei 200.000 di colpo vedranno il mio libro pubblicato nella pagina Facebook di questo editore ed è molto più facile che invece fare SEO, fare posizionamento, cercare di sistemare il mio sito per farlo posizionare davanti alle grandi librerie. Ok? E come vedete non è proprio una strada di servizio così brutta, perché addirittura è anche abbastanza spianata. Cioè troviamo da questa parte delle porte aperte, troviamo anche gente già profilata, troviamo anche già persone interessate ai libri, alla lettura o comunque affezionati a quella casa editrice. Quindi cosa succede? Che io quando poi esco col mio libro su quella pagina Facebook, non è detto gratis. Non è detto che la casa editrice lo faccia gratis, anche se è suo interesse. Ma poi parliamo di casa editrice, in realtà potremmo anche pubblicare il nostro libro su una pagina Facebook di qualcuno. Ok? Magari c'è un grosso gruppo di amanti della lettura, che però per le sponsorizzate chiedono dei soldi. Perfetto, posso decidere di investire del denaro per uscire con un post su una pagina Facebook da 300.000 persone, un milione di persone. Chiaramente ho dei ritorni abbastanza immediati, perché sono affezionati, sono profilati, come dicevo, e però magari devo pagare. Quindi anche il fatto di non prevedere un budget per la sponsorizzazione, non prevedere un budget per tutte quelle attività che mettono in comunicazione i vari ecosistemi di cui parlavamo l'altra volta, secondo me è negligenza dal punto di vista imprenditoriale. Qui dobbiamo sempre misurare il nostro progetto in base alle nostre disponibilità. E questa è la morale di questa prima parte, no? Che faccio sempre una lunga chiacchierata introduttiva e faccio sempre un po', mi dilungo sempre un po', perché poi mentre parlo mi vengono in mente vari fattori. Ma è inevitabile, perché vedo proprio dei progetti che non hanno un obiettivo a un mese. Cioè non riescono a definire, entro un mese facciamo questo. Dicono, il nostro obiettivo è salvare il pianeta. Se invece io dico, per salvare il pianeta la prima cosa che devo fare è diminuire, non lo so, il consumo di petrolio. E già ho ridotto. Per diminuire il consumo di petrolio devo, che ne so, inventare le macchine elettriche. E già ho ridotto. Per inventare le macchine elettriche devo inventare una buona batteria perché deve avere autonomia. E già ho ridotto. Capite che ad un certo punto arrivo a un obiettivo realistico che posso realizzare da qui a brevissimo tempo e che innesca il meccanismo di salvataggio del pianeta. Però salvare il pianeta e basta non vuol dire niente. Allora, questi progetti così lungimiranti, così altisonanti, austeri e solenni, purtroppo non prendono mai via. E se prendono via comunque falliscono e non funzionano. Tra l'altro, spesso falliscono e non funzionano perché non hanno budget. Addirittura alcuni pensano di farlo in corsa. E qua apro una parentesi delle mie che secondo me è la chiave per tanti progetti che si dovrebbero oggi ridimensionare e devono trovare una soluzione. Adesso ve la dico. Bevo perché sono a secco. Allora, la chiave è che se io devo creare qualcosa di grande e devo avere i fondi per creare qualcosa di grande, posso partire da qualcosa di più piccolo che alimenta, sul quale ho un piccolo utile, o magari ho anche un grande margine proprio perché è un accessorio, perché è un di più, perché è un prodotto di consumo, perché è qualcosa di correlato al mio core business, che man mano avanti si progetta, si sviluppa, eccetera, e intanto incasso. E tutto quell'utile lo rinvesto sul progetto più grande. Se invece io penso solo al progetto più grande, non ho fondi infiniti. Invece così, se ho un progetto piccolo che fa utile, automaticamente ho fondi infiniti. Perché è utile, lo metto di qua, utile lo metto di qua e vado avanti. Quindi, il consiglio che do a dei progetti che sono troppo grandi per le proprie tasche, o troppo grandi per i tempi che si sono prefissati, o per le risorse umane a disposizione, il consiglio che do è di inventarsi anche questa porta di servizio. Cioè iniziare a portare a casa dei clienti e portare a casa dell'utile. Non si può pensare di fare utile dal primo giorno con un'azienda da milioni di euro. Va progettata, va costruita, va pensata, va modellata, va testata, e poi deve piacere, deve funzionare. Che è una cosa che comunque non sappiamo. Cioè c'è comunque un grandissimo punto interrogativo in tutto quello che facciamo. Perché dalla più banale campagna social su Instagram, dove pubblico un post, e sono quasi certo che funzionerà, e ogni tanto prendiamo delle cantonate incredibili perché non funziona, fino ai grossi investimenti pubblicitari internazionali, c'è comunque sempre un punto interrogativo. Non sappiamo come reagisce la popolazione. E quindi dobbiamo assolutamente fare dei piccoli test. Prima di fare una campagna internazionale sicuramente devo fare dei test piccoli. E questo è il concetto alla base di tutto. Cioè non posso pensare di fare cose enormi. Poi, l'altra cosa che avevo detto all'inizio, è che se penso di fare cose troppo piccole, poi magari mi fermo, no? Perché sono soddisfatto, funziona. C'è qualcuno che si adagia e non fa mai lo scattino. Quindi la via di mezzo, secondo me, come sempre, tra tutte le sfumature possibili, la via di mezzo è una delle cose migliori. Perché con la via di mezzo faccio in fretta scendere un pochettino e rientrare nel mio budget, nelle mie risorse, e faccio anche in fretta ad aumentare un pochettino, perché basta spingere un po' l'acceleratore. Quindi, l'altra volta abbiamo parlato di posizionamento nel motore di ricerca. Per chiudere, ad esempio, questo pensiero. Se io devo posizionare un sito, e l'altra volta l'ho accennato, non posso pensare di posizionarmi per le parole casa, per le parole scarpe. Non ha senso, non ci devo neanche pensare a dei progetti così altisonanti. Perché tanto io per la parola casa non mi posiziono, per la parola scarpe non mi posiziono, punto. Cioè non c'è da discutere su questa cosa, dobbiamo chiarirla. Invece io mi posso posizionare su vendita di case in montagna con piscina. Perché mi posso posizionare? Perché non ci sono tante case in vendita in montagna con piscina, perché pochi le trattano, perché comunque chi le cerca è super profilato e quindi quando trova un contenuto approfondisce, eccetera, eccetera. Quindi aggiungere, l'altra volta parlavo di borraccia indistruttibile, giusto? Aggiungere una definizione al mio progetto e aggiungere specificità al mio progetto mi aiuta a penetrare un mercato molto più facilmente, perché i grossi player coprono tantissimo mercato, magari anche con i prezzi e con il sottocosto, ma non riescono ad entrare così tanto nello specifico. È inevitabile. Cioè io posso diventare l'esperto delle ville con piscina. L'esperto delle ville con piscina viene chiamato perché lui fa ville con piscina. E allora a quel punto, quando uno trova un suo contenuto, intanto percepisce la professionalità, percepisce la specificità, che è una cosa già importantissima e oggi si va sempre di più a cercare questa cosa. Un po' perché tra globalizzazione, automazione, robotizzazione, informatizzazione, si va perdendo, si va perdendo anche l'artigiano, no? E quindi ieri ero da un cliente che è un artista e aveva paura ad alzare i prezzi. E quindi apro una piccola parentesi delle mie, ma secondo me è importante. Aveva paura ad alzare i prezzi. Ma perché deve alzare i prezzi? Perché il suo lavoro, che tra l'altro è di estrema qualità e piace tantissimo e ha sempre riscontri positivi, oltre che essere frutto di studi, di gavetta, di lavori, eccetera, quindi anche tutto, non dico dimostrabile, ma tutto veramente costruito, no? Proprio ci ha messo mano, ha la mano in pasta, ha anni che lo fa, quindi non è un improvvisato, eccetera. Poi in più ha sempre riscontri positivi, recensioni, eccetera. Quando ha provato a vendere a dei prezzi più alti, ha venduto. Quindi il fatto che abbia tutti questi riscontri dovrebbe già dare la forza per alzare un po' i prezzi. E secondo me il listino di quest'artista era un po' basso. Quindi uno dei lavori che abbiamo fatto è anche un po' di consapevolezza del proprio know-how, consapevolezza della capacità, della qualità e dei prodotti che vendi. E qua rientriamo nel discorso di prima nella fascia. Cioè dove si posiziona però coi prezzi? Non può chiedere 100 milioni di euro per un suo quadro. È follia, lo sappiamo. Ma chiedere 30 euro dall'altra parte è comunque sbagliato, perché ne vendi tanti, ma non hai tempo di farli. Quindi come vedete non c'è proprio proporzione, non si può sbarellare da una parte o dall'altra. Bisogna trovare la giusta vedi mezzo. Qual è la giusta vedi mezzo per un artista in quel caso? Per un artista in quel caso è dire intanto si può fare un conto della serva che serve per non andare mai sotto il minimo sindacale. Cioè se lei per realizzare un quadro ci mette tre ore, immaginiamo, ci mette molto di più, ma immaginiamo che ci metta tre ore, a 20 euro l'ora 60 euro è minimo sindacale. Stop! Cioè sotto 60 euro non potrà mai vendere un quadro. In nessun caso. Niente. Neanche un amico. Non si può. Perché non si può? Perché a quel punto entrano in gioco due fattori. Uno che è in perdita, matematicamente. E se ha tante richieste, dopo un po' non ce la fa più, oppure occupa tutto il tempo a lavorare per quattro speech. E poi ogni volta che scende, o che regala, o che promuove, o che fa sconti, cose di questo genere, perde di valore tutto il progetto, tutta la professionalità e tutto l'artista. E non viene neanche trasmesso quel know-how, quella professionalità che aveva, che ha raccolto negli anni. Quindi cosa significa? Che posizionare il prezzo giusto significa riflettere tutto quello che c'è dietro, significa vendere sempre con un po' di margini, significa avere le richieste giuste da clienti che sono disposti a spendere quella cifra e non che trattano per ogni cosa. Cioè è anche difficile avere a che fare con clienti che trattano. Perché il cliente che tratta non sta dando valore al vostro lavoro e soprattutto non è disposto a spendere quella cifra, perché sennò non tratterebbe. Non è che a un conto se uno ti chiede riesci a trattarmi bene, mi fai il prezzo, detto così ci può stare, lo facciamo quasi tutti, è diverso, no? Che prezzo mi riesci a fare? Benissimo. Ti dico il prezzo, finisce lì la trattativa, va bene. Ma se insiste, chiede lo sconto o chiede di aggiungere cose o ti chiede anche questo, guarda solo due minuti e poi non va più bene. Non va più bene perché manca tutto il meccanismo. Allora, il posizionare il progetto, prima parlavamo di grandezza del progetto, ma poi possiamo parlare di prezzi, possiamo parlare di profondità, di specificità, bisogna trovare la via di mezzo giusta che ci permetta di lavorare bene, con qualità e avere il giusto utile. Non si possono fare le cose a caso. Soprattutto oggi che c'è tantissima concorrenza e uno riesce ad andare online a confrontare i prezzi e a verificare che cosa fanno gli altri, rischiate di mettervi a confronto di gente o che svende pur di trovare clienti, oppure che è molto cara oltremodo e invece poi il prodotto è di pessima qualità, eccetera. Quindi secondo me bisogna presentarsi bene, bisogna avere il giusto prodotto, bisogna avere la giusta qualità, il giusto margine, il giusto tempo, eccetera, eccetera, e posizionarsi nella fascia corretta che a lungo andare paga sempre. Se invece io sono super caro, perché io chiedo per la mia consulenza 30.000 euro l'ora, magari il pollo da spennare lo trovo, ma ne trovo uno. E voi direte, hai fatto 30.000? Sì, ma poi ne trovo uno. Se poi uno così importante, che spende 30.000 euro l'ora, inizia a picchiare duro sulle recensioni, secondo me, non so quanti altri, poi vengono a comprare recensioni da te, consulenze da te. Quindi la stessa cosa è un artista, no? È vero che l'arte esula ogni tanto dallo standard, è difficile confrontarla e non si sa veramente il lavoro che c'è dietro. Quindi per tutto il mondo dell'artigianato, dell'arte, della musica, della scrittura, è un po' difficile dare un prezzo. Però non è impossibile alzare i prezzi. Affronti tutta una serie di cose che diciamo di solito, alzare la qualità, alzare il servizio, alzare l'assistenza, tutto quello che potete alzare, alzatelo, così alzate il prezzo e alzate il margine. Però dovete per forza alzare qualcosa. E per alzare qualcosa dovete avere un'idea di questa scala di progetto. Non posso alzare se non ho una base d'appoggio, non posso tirarmi su se non ho il pavimento sotto. Ok? Quindi sicuramente io devo valutare qual è la base minima, oltre la quale non devo mai scendere. Io ho dei prezzi oltre i quali non scendo mai. Per nessuno, neanche per gli amici. Cioè non esiste. Sotto un certo prezzo non si può fare un certo lavoro. Ed è la base. È la base per fare un lavoro medio-alto. Se invece io inizio a scendere, e poi sono di corsa, ma gliel'ho fatto a poco, ma sì, si accontenterà. Valuterà che gliel'ho fatto a prezzo e quindi accetterà qualche piccolo difetto. Oppure comunque è un rompicoglioni che ti chiede il lavoro impeccabile anche se gli hai fatto lo sconto, come è giusto che sia. Perché devi fare il lavoro comunque impeccabile. Quindi capite che non si può stare nella fascia troppo, troppo bassa. Cioè se stiamo al limite, al limite, siamo sempre lì con l'acqua alla gola e tiriamo un po' a campare. Ok? Quindi io... Ah, rispondo a Marco che dice i 20 euro l'ora sono indicativi anche per un artigiano così come per un artista? Allora, i 20 euro l'ora era un prezzo buttato lì. Cioè tu come artigiano puoi chiedere 100 euro l'ora, puoi chiedere 3 euro l'ora. Non ha importanza. Io non riesco a valutare adesso, oggi, senza conoscere la tua attività, il tuo servizio, il tuo prodotto, il tuo know-how, la tua rete vendita. Ad esempio, un artigiano che partecipa a tantissime fiere, faccio l'esempio, si muove, si sposta al furgone, carica, scarica, cioè usa un sacco di tempo. È normale che poi ad una fiera, ad un evento, il prodotto sia caro? Perché dietro c'è un costo enorme. Se invece tu hai il tuo laboratorio a casa e magari pure su una via di passaggio hai messo solo una bella insegna, la gente si ferma da sola, cambia già tutto. Perché l'acquisizione clienti ha un costo decisamente minore. Quindi come vedi già qua, solo sull'acquisizione clienti ballano dei prezzi tranquillamente. E se l'acquisizione clienti è a costo zero, diciamo, come quando hai un negozio in centro che sei proprio sulla via pedonale in mezzo a Bologna e chiaramente i ragazzi ti passano davanti tutto il giorno e tu vendi abbigliamento streetwear. È chiaro che tu hai migliaia di universitari che ti passano davanti tutti i giorni, il tuo costo di acquisizione è quasi zero, praticamente, oltre a fare la vetrina adesso sto chiaramente estremizzando, allora a quel punto magari il tuo budget lo investi in altro. Io vorrei avere delle commesse top in una situazione del genere che quando uno entra vendono, punto. Cioè, non so come dire, investirei sul personale, sulla formazione, i corsi di formazione, investirei su altro. Ma in generale, invece, quello che deve fare tanta pubblicità, ad esempio, una app company o una web company, cioè che hanno solo il web, che hanno solo l'app per vendere, devono assolutamente spendere un sacco di soldi di pubblicità e quindi hanno dei costi altissimi di base senza i quali non li vede nessuno. Ecco che cambia tutto a quel punto. Il costo all'ora cambia sicuramente decisamente. Quindi quei 20 euro all'ora per l'artigiano è assolutamente casuale perché l'artigiano che l'artigiano che non non so come dire ci sono dei pezzi unici, ci sono artigiani che magari fanno tre pezzi l'anno. L'artigiano che fa tre pezzi in anno con i quali deve vivere tutto l'anno se valuta 20 euro l'ora e ci ha messo 100 ore viene fuori un pezzo che è il minimo sindacale per vivere. Se poi fa tre pezzi in un anno è vero che forse se fa tre pezzi in un anno non può neanche non so come dire forse sta lavorando poco. Però in generale ecco il discorso è questo stabilire i propri prezzi è difficilissimo è difficilissimo e bisogna nel tempo capire dai feedback dalle recensioni dalle vendite da come funziona dalle spese veramente che ho perché l'artigiano ha anche tutta una serie di materiali di macchinari che deve ammortizzare e sono lunghissimi da ammortizzare. Ci sono dei macchinari nell'artigianato che costano tantissimo. Una gelateria ha dei macchinari che costano una follia. Poi è vero che sul gelato in sé sul singolo cono c'è un grosso ricarico ma io devo pagarmi il laboratorio la corrente e questi macchinari. Quindi anche lì il costo del gelato è vero che se lo metto 20 centesimi in meno divento la gelateria più economica ma la gente viene perché hai 20 centesimi in meno o perché il gelato è buono o perché il locale è fighissimo o perché sei super gentile o perché c'è c'è poca coda c'è sempre posto a sedere cioè ci sono altri a tu su cui lavorare quindi poi il prezzo lo puoi fare anche per gli altri a tu. Quindi il gelato invece può costare anche 20 centesimi in più perché hai l'aria condizionata sempre posto a sedere il gelato è strabuono la frutta fresca le commesse gentili eccetera eccetera se non a posto col parcheggio davanti cioè se costa 20 centesimi in più la gente neanche ci pensa ok? Questo è un po' il ragionamento spero di di averti risposto. Bene signori io vi do appuntamento sicuramente a sabato per il video di qualità su YouTube mi spiace che TikTok non sia partita la diretta quindi gli amici su TikTok non mi avranno visto ma avranno possibilità di rivederla registrata come sempre su Instagram e Facebook e noi ci vediamo la settimana prossima magari domani per la pillolina vi ricordo chiudendo intanto saluto Marco Anarita ciao Nicola ciao Marco grazie per essere passati ciao Romina è un po' che non ti vedo Manta Manta Sminda Manta Sminda ciao Marco grazie a te ciao Matteo ciao a tutti quelli che sono passati e vi ricordo comunque di visitare il mio sito aspiriner.it che è il mio blog di marketing e non ci sono banner signori non ci sono banner la visita è gratuita per tutti visite gratis sempre si vince signori sempre si vince grazie a tutti